Sabato 30 aprile, domenica 1 maggio, si riparte con la Cantiano Fiera Cavalli in un format tutto primaverile. Alle 15 del Monte Capria, presso il centro Ippico e la Badia di Chiaserna, caroselli, sfilate questri e gare di altissimo livello. Tante attività per tutta la famiglia e spazio giochi bambini, musica, concerti e balli country, numerosi stand gastronomici. Resta aggiornato e seguici sulla nostra pagina Facebook Cantiano Fiera Cavalli. Resta aggiornato e seguici sulla nostra pagina Facebook Cantiano Fiera Cavalli.